Buongiorno ragazzi, eccomi qua, sono tornato. Come state? Spero tutto bene. Allora, oggi sono qui per affrontare un triplo argomento, in realtà. Il titolo è chiaro, una Juventus offensiva dentro e fuori dal campo, perché voglio concludere la parte di analisi nei confronti di Juventus-Atalanta. Sarà un'analisi molto veloce, andrò a prendere in considerazione tre piccoli punti, e quindi andremo a sottolineare alcune cose che mi sono piaciute, principalmente, della partita, quelle che non mi sono piaciute, direi, di averle ampiamente descritte all'interno delle varie postpartita e delle pagelle, ma ci sono anche tre cose, secondo me tre o quattro cose che vanno esaltate, e questo è ovviamente quello che riguarda il campo, lato Juventus. E poi ci sono delle dichiarazioni di John Elkan, e quando parla Elkan è doveroso stare in silenzio, ascoltare, capire e comprendere quello che sta dicendo, perché ovviamente si sta analizzando e si sta proiettando per una futura strategia in ambito Juventus, non solo probabilmente per quanto riguarda quello che è accaduto con tutto il discorso legato alla sentenza per le plusvalenze. Quindi io direi di passare subito alla prossima schermata, dove adesso vi faccio comparire, eccolo qua, Weston McKennie. E perché Weston McKennie? Perché secondo Gianluca Di Marzio il list sarebbe il lista per acquistare McKennie, dopo gli interessamenti di Aston Villa e Arsenal degli scorsi giorni per il Texano. Ecco che un'altra squadra di Premier ci prova, e attenzione che McKennie può essere il sacrificato della Juventus in questa campagna acquisti, e credo proprio che le parole di Elkan alla fine possano andare proprio in questa direzione. Quindi monitoriamo la questione legata a McKennie, sappiamo bene che Juventus in questo momento è alla ricerca di un giocatore che possa giocare in quella porzione di campo che in questo momento sta occupando McKennie proprio perché Quadrado è stato infortunato e non ci sono ricambi, dovesse uscire McKennie ecco che la Juventus potrebbe tornare sul mercato per acquistare un giocatore in quella porzione di campo come titolare o come riserva di Quadrado. Vediamo che cosa succede, ma McKennie è un nome caldo per queste settimane di Juventus. Questo è il match report di Soccerment, lo riconoscete ormai a vista d'occhio, trovate comunque il link di Soccerment qui sotto in descrizione, la piattaforma è gratuita, potete analizzare completamente da soli i vostri dati, voglio cercare di andare un po' nel dettaglio su alcune cose. Intanto sulla formazione, perché lo abbiamo detto più volte, anche quando eravamo in diretta chi era in live su Twitch con me lo sa, più volte ci siamo proprio interrogati sulla posizione di McKennie e di Alexandro. Guardateli qua, l'8 e il 12, perché in teoria 3-5-2 ci immaginiamo i tre centrali difensivi, i due esterni, i tre centrocampisti, i due attaccanti, tutti posizionati ovviamente nelle loro posizioni. Invece no, invece no perché McKennie giocava a terzino, così come Alexandro in realtà. Possiamo addirittura in questa slide vedere che McKennie ha giocato addirittura più basso, se vogliamo, di Alexandro, che era il terzo componente della difesa dei difensori centrali, e Alexandro stava molto dentro il campo, tra l'altro. Allora che cosa significa? Significa che se il 12 stringe, quindi Alexandro, se stringe un esterno o un difensore centrale, c'è la possibilità di dare ampiezza in quella porzione di campo, e quindi ovviamente Alexandro porta palla, i giocatori vengono in pressione su Alexandro, si libera lo spazio per Kostic, che è un po' quello che fa ad esempio il Milan, con Teo Hernandez e Leao, tante volte Teo viene a giocare dentro il campo per dare la possibilità a Leao di prendersi l'ampiezza, e andare di là, palla sui piedi, punta l'uomo, entra, crea superiorità numerica, e il Milan tante volte ha vinto o ha sbloccato delle partite in questo modo qui. Quindi interessante l'opzione, peccato che Kostic non fosse propriamente inserata, anzi non mi è piaciuto, abbiamo già parlato nelle pagelle, ve lo lascio comunque. Qui sopra nelle schede, e invece dall'altra parte, McKennie così basso e quasi a terzino destro, lasciava la possibilità o a Fagioli, numero 44, di prendere quello spazio, che però negli ultimi metri molte volte veniva preso, tra l'altro come in occasione dell'assist di Fagioli, l'assist di Maria per Fagioli, Fagioli va esterno, crossa dentro per Milik, ma tante volte quella posizione lì, largo a destra, andava a prendere proprio o Di Maria o Milik a rotazione, a seconda del momento della partita, a seconda anche della disponibilità a livello di fiato, di polmoni, di muscoli, di energia, di forza, e quindi si potrebbe anche leggere, se proprio vogliamo, come una sorta di 4-3-3 questa formazione, con Alessandro e McKennie Terzini, Danilo e Bremer centrali, Kostic, Di Maria esterni, Milik di punta e tre centrocampisti. È ovvio che lo schermo, anzi lo scheletro, rimane quello del 3-5-2, semplicemente con McKennie molto più a fare da contenimento in supporto a Danilo e Alessandro dentro il campo per la rampiezza Kostic, però attenzione che potrebbe anche essere una sorta di esperimento da parte di Allegri per iniziare a ragionare su alcuni spunti per il futuro, per cercare di mettere insieme un po' tutti gli elementi che ha a disposizione, perché ribadisco, questa Juve in questo momento è allestita male per avere un modulo fisso. Poi è ovvio che il campo ci dice che il 3-5-2 è quello che ci ha dato più garanzie in assoluto. Non sono ancora convinto che sia il modulo ideale per questa Juve. Tanti tiri, tanti tiri sia da una parte che dall'altra e tanti errori, ne abbiamo già evidenziati e sottolineati, e questo va a generare un 3-3 complessivo. Entrambe le squadre riescono a trovare la conclusione sia dentro che fuori dall'area avversaria, con i bianconeri che risultano più pericolosi, senza riuscire a concretizzare due macro possibilità, due macro palle gol, quindi la Juve poi si deve accontentare, però ha avuto la possibilità veramente la Juve di vincere questa partita e se l'Atalanta è riuscita a recuperare o a sbloccare, colpa nostra, nostri errori. Quindi da migliorare sicuramente dal punto di vista delle attenzioni individuali, ma a livello di collettivo di squadra secondo me è stata fatta un'ottima partita. E dico ottima perché c'è stato anche un grandissimo pressing offensivo da parte della Juventus, guardate soltanto il dato inerente al PPDA. Vi ho scritto anche in leggenda che cosa significa. Maggiore il pressing offensivo portato da una squadra e minore il valore del PPDA. Una squadra invece che difende più vicino alla porta ha un PPDA maggiore. Guardate il PPDA della Juve, 13.6 contro il 14.3 dell'Atalanta. Perché voglio esaltare questo dato? Perché quante volte, e inserisco giustamente, è stata detta questa frase, l'Atalanta pressa tantissimo, è intensa, è una squadra che gioca ad alti ritmi, una maria di volte. Quando la Juventus affronta l'Atalanta e mette in campo gli stessi valori in cui l'Atalanta ha costruito la fortuna degli ultimi anni e addirittura pressa più dell'Atalanta, secondo me è una cosa che va sottolineata, va detta. È una Juventus che ha giocato in avanti per tutto il tempo, tantissime volte addirittura in pressing sul portiere, in pressing sull'uscita del portatore basso quando escono dal basso, in pressing subito a non far respirare l'Atalanta, far lanciare la palla. E poi posizionamento importante di Bremer, Danilo e Alexandro che tante volte sui rinvii andavano a recuperare già il pallone trasformando l'azione da difensiva a offensiva. Queste sono cose che vanno sottolineate perché raramente vediamo una Juve di questo tipo, raramente. E questa è stata una partita approcciata proprio in questo modo per cercare di giocare all'attacco. L'altra sera dicevo che bisogna essere onesti nelle analisi. Quando la Juventus non fa delle prestazioni di livello e magari raggiunge dei risultati risicati all'ultimo, magari anche con una giocata individuale o con l'avversario che prende il palo e quindi le partite che vengono vinte sì, ma con anche un grado di fortuna. Bisogna dirlo ed è giusto dirlo, abbiamo sempre detto. Ma quando la Juventus fa delle partite di questo tipo e non porta a casa la vittoria perché si fa degli autogol, praticamente perché ci siamo fatti autogol, ma per il resto la partita viene gestita ad alto livello, io non capisco perché non vada detto. C'è troppa mala fede, c'è davvero troppa mala fede nelle analisi. E quindi bisogna sempre, sempre cercare di leggere la partita non solo con gli occhi ma anche con i dati che ti danno sempre anche un qualcosina in più. Abbiamo avuto meno possesso, palla dell'Atalanta, infatti tante volte l'abbiamo lasciata loro ma a noi non ci interessa perché poi siamo riusciti a fare più tocchi dentro l'area di rigore avversaria che è dove si concretizzano ovviamente le palle gol più importanti e siamo riusciti ad avere anche più palle gol grosse, importanti dell'Atalanta, come possiamo vedere anche da questo grafico che sono i cumulativi x goal. Noi fino all'ultimo secondo abbiamo cercato il gol del 4-3. Purtroppo non ci siamo riusciti ma guardate il grafico quanto va su la linea azzurra guardate il grafico invece verdino dell'Atalanta che dopo il terzo gol si è quasi accontentata di gestire la partita. Ora alzi la mano che si immaginava un andamento simile alla vigilia perché se l'Atalanta è la squadra che gioca l'attacco è la squadra che segna 15 gol in due partite è la squadra che presa, è la squadra che corre e la Juventus è la squadra che sempre si difende, che non gioca bene, che quando vince vince a culo e poi la partita dice tutt'altro e altri dicono tutt'altro dobbiamo raccontare la storia che la Juventus ha comunque giocato male, ha fatto una brutta partita e che non è giusto ringraziare i ragazzi dopo una settimana difficile come quella che abbiamo vissuto con 5 gol a Napoli più 15 punti di penalizzazione tirano fuori una partita del genere e dobbiamo dire che la Juventus ha comunque giocato male. Io non ci sto, mi dispiace ma io queste cose non ci sto. Bisogna assolutamente intanto contestualizzare i momenti e poi essere onesti nelle analisi perché sennò poi ragazzi se nei commenti io continuo a leggere sempre solo persone insoddisfatte che si veda qualcosa di diverso che si veda sempre la stessa roba siamo un disco rotto non stiamo analizzando con onestà quello che effettivamente avviene in campo e quindi una Juventus che in campo sicuramente ha voluto cercare portare a casa il risultato e ieri abbiamo parlato delle parole di Scanavino che secondo me sono molto molto importanti trovate il link del video qui sopra nelle schede ma non solo perché oggi non mi ricordo se alla stampa o alla Repubblica probabilmente alla stampa ha parlato pure John Elkan ed è quello che dicevo prima dice la Juventus è la squadra italiana più amata e seguita rappresenta il nostro calcio nazionale l'ingiustizia di questa sentenza è evidente in molti l'hanno rilevato anche non di fede i bianconeri noi ci difenderemo con fermezza per tutelare l'interesse dei tifosi della Juve e di tutti quelli che amano il calcio spero che insieme alle altre squadre al governo possiamo cambiare il calcio nel nostro paese per costruire un futuro sostenibile e ambizioso la Juventus non è il problema ma è e sarà sempre parte della soluzione qui in gioco il futuro della Serie A che sta diventando marginale e irrilevante perché si incastra bene il discorso McKennie con queste prove di Elkan perché per il nostro paese il calcio del nostro paese Elkan lo vede sostenibile e ambizioso faccio l'acquisto di McKennie ok giovane interessante lo prendo sui 20 anni me lo tengo 2-3 stagioni poi lo vendo e cerco di riguadagnarci quello che l'ho pagato e magari anche qualcosina di più quindi alla fine praticamente non ho pagato il giocatore ho usufruito del suo diritto alle prestazioni sportive ci sta? benissimo il futuro della Serie A sta diventando marginale e irrilevante prima parlavamo di Aston Villa e Leeds con tutto il rispetto e il bene e ovviamente come possiamo dire il prestigio derivante dal giocare in Premier League la Juventus è un'altra cosa no? però queste squadre sono interessate queste squadre hanno i soldi la Serie A è sempre più marginale e irrilevante e quindi dove si fanno gli affari? dove gira il soldo? lì Serie A operazione di mercato in questo momento poco o niente l'unica che si sta sviluppando in questo momento è tra Roma e Milan per Zagnolo perché c'è stata una rottura tra le parti perché il giocatore vuole andare via e perché il Milan è interessato a prendere determinate condizioni di vantaggio rispetto anche alle stesse che non erano state offerte alle Juventus quest'estate perché ricordiamolo quando la Juventus quest'estate è andata a bussare la porta per Zagnolo si ricevano gifre dai 50 60 e 70 milioni di euro io capisco che in questo momento si è cambiato qualcosa l'atto Zagnolo ma sicuramente quando la Juve bussa le porte degli altri club si impenna il prezzo sempre e comunque poi le cose cambiano le dinamiche cambiano Zagnolo in questo momento ha rotto la Juventus sicuramente in questo momento non è nemmeno pronta diciamo così a ragionare chiave mercato per operazioni di questo tipo però la che mondo è mondo busserà a Juventus a Juventus c'è i soldi e allora Elkan dice delle cose forti va sulla stessa linea di Scanavino parla di ingiustizia parla di di sentenza non adeguata io ribadisco io ho fiducia nella giustizia sarà giustizia dire se effettivamente ci sono state delle ingiustizie oppure no aspettiamo questo ricorso al CONI vediamo che cosa succederà aspettiamo anche le motivazioni della sentenza che ha tolto 15 punti alla Juventus sperando che gli avvocati della Juve possano trovare dei cavilli all'interno di questa sentenza facendola risultare quindi ingiusta perché se non si è sbagliato non ha senso pagare se si è sbagliato sì ma allora deve essere qualcosa di universale Elkan lo sa bene e dice bene perché la Juventus non è il problema ma sarà sempre parte della soluzione perché la Juventus in Italia negli ultimi anni è stata una delle poche non dico l'unica perché sarebbe stupido e falso ma è una delle poche squadre che ha veramente fatto circolare denaro fresco con tante correnti all'interno del campionato italiano perché tante volte noi siamo andati ad acquistare pagando cash giocatori alle altre squadre mi viene in mente banalmente la Fiorentina da cui prendiamo Vlaovic Chiesa e Bernardeschi Bernardeschi 40 Chiesi 50 siamo a 90 Vlaovic 70 siamo già a 160 160 milioni di euro cash nelle casse della Fiorentina la Juventus li ha messi 90 milioni per Higuain la Juventus li ha messi più tante altre operazioni sono soldi che la Juventus rimette all'interno del mercato italiano del sistema calcio Italia soldi veri soldi freschi non plus valenze soldi veri più ovviamente scambi che ci sono stati anche scambi in cui non circolava denaro ma in cui era necessario che tutte le squadre potessero sistemare alcuni dettagli all'interno dei bilanci questo è vero ma ripeto se abbiamo sbagliato è giusto pagare però poi sulla stessa riga non mi interessa intercettazioni non intercettazioni perché è vergognoso pensare che uno è colpevole soltanto se è intercettato se uno ha sbagliato e ha fatto la stessa cosa anche se non è intercettato va punito bisogna indagare bisogna andare nel dettaglio se no non stiamo facendo giustizia stiamo facendo una sorta di reality show e giustamente Elkan dice non è solo la Juventus ma è tutto il calcio in Italia è tutta la Serie A perché? perché sa benissimo sa benissimo che se verrà punita la Juventus e la Juventus soltanto c'era un grave danno per il calcio in Italia è quello che continuo a dirvi dal giorno zero aspettate perché io vedo troppe persone esultare tifosi di altre squadre che godono godono di questa cosa qui aspettate aspettate perché si rompe il giochino e se si rompe il giochino poi è un problema per tutti quanti tutti i tifosi di calcio di tutte le squadre in Italia non sono i tifosi della Juventus e infatti Elkan cosa dice? tutelare l'interesse dei tifosi della Juve e di tutti quelli che amano il calcio attenzione eh